Sono stati individuati e sottoposti a fermo i quattro giovani accusati come responsabili delle rapine ai danni di due esercizi commerciali avvenuti a gennaio con l'aggravante dell'uso delle armi. Si tratta di un ventenne, un diciottenne e due diciannovenni. La sera del 31 gennaio a Modugno, in via Palese, due soggetti travisati con casche e guanti ed uno di loro armato di pistola hanno consumato una rapina ai danni di una tabaccheria portando via poco meno di 1000 euro. I due rapinatori sono giunti sul luogo a bordo di uno scooter nero con la targa coperta da una busta in plastica e dopo l'azione delettuosa sono fuggiti verso il quartiere di Bari-San Paolo. Le immediate indagini avviate dai carabinieri della compagnia di Modugno supportate dall'acquisizione dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di concentrare le ricerche dei malfattori proprio nella zona Cecilia e San Paolo. In quella zona è stato quindi individuato il ventenne e nel corso di una perquisizione sono stati ritrovati caschi e capi di abbigliamento indossati la sera della rapina corrispondenti a quelli ritratti dalle immagini di videosorveglianza. I militari hanno poi individuato il complice, uno dei due diciannovenni, il quale insieme al fratello diciottenne e all'altro complice di diciannove anni sono risultati gli autori di un'altra rapina commessa la sera del 10 gennaio ai danni del supermercato di Bari Palese. Le indagini hanno consentito di recuperare uno degli scooter utilizzato per le due rapine parcheggiato nei pressi di un condominio di Bari San Paolo al cui interno, nel vano sottosella, i carabinieri hanno rinvenuto la busta utilizzata per coprire la targa. Per tutti e quattro dopo il fermo sono scattati gli arresti domiciliari.